L'arca di Noè Ci sono state molte, molte persone che hanno vissuto nel mondo e il loro cuore era così pieno di peccato che i loro pensieri e le parole e le azioni erano tutte molto malvagie. Non cercavano di piacere a Dio, non lo amavano, non lo ringraziavano benedicendo il cibo o il loro riparo o il sole che dava loro. Non insegnavano ai loro figli ad amare le cose buone e pure, ma permettevano loro di crescere e diventare uomini e donne malvagi come loro. Il peccato era ovunque. Finalmente un giorno Dio decise di distruggere tutte le persone perché non erano più in grado di vivere. Si dispiaceva di aver creato l'uomo. Pensò che avrebbe distrutto tutto, persone, animali e ogni altra creatura che vivesse sulla terra. Allora progettò una grande inondazione di acqua per coprire la terra. Ma poi Dio si ricordò di Noè. Noè era un uomo che aveva tentato di fare del bene indipendentemente da tutti i malvagi che lo circondavano e aveva anche insegnato i suoi figli a fare del bene. Dio si compiacque con Noè e i suoi figli. A volte parlava Noè. Così decise di raccontargli il suo piano per distruggere il mondo. Ma poiché Noè e la sua famiglia avevano cercato di fare del bene e avevano la fiducia del Signore, Dio promise che non sarebbero stati distrutti insieme alle persone malvagie. Preparatevi a costruire un'arca, disse Dio a Noè. E poi, quando sarà finita, tu e tua moglie, i tuoi figli e le loro mogli potrete andare a bordo dell'arca e vivere lì fino a quando il diluvio sarà cessato. Ora che Dio aveva deciso di salvare la famiglia di Noè, aveva anche deciso di salvare una coppia di ogni specie di animali e di uccelli e di ogni essere vivente sulla terra che respirasse. Queste creature dovevano essere ospitate sull'arca fino a quando fosse terminata l'alluvione. Noè credette a Dio e cominciò a costruire l'arca. Per lungo tempo, mentre altri andavano avanti con il loro modo malvagio di operare, Noè e i suoi figli lavoravano, segavano tavole e martellavano chiodi, creando ogni parte dell'arca. Poi, ogni chiodo fu fissato saldamente al suo posto, le pareti interne furono finite e ogni parte fu pronta per lo scopo a cui serviva. La gente rideva molto della devozione del vecchio Noè e dei suoi tre figli. Pensavano che solo un pazzo poteva credere che ci sarebbe stata una cosa come un maremoto, ma Noè continuò ad avvertirli che si pentissero dei loro peccati o Dio li avrebbe distrutti. Un giorno, quando l'arca fu completata, Dio chiamò Noè e gli disse di portare sua moglie, i suoi tre figli e le loro mogli a bordo dell'arca. Vi salirono anche tutti gli animali, a due a due di ogni specie. Quando furono tutti dentro l'arca, si chiuse la porta. Dopo alcuni giorni la pioggia iniziò a cadere e che pioggia. Presto i piccoli ruscelli diventarono torrenti ed i fiumi strariparono dai loro argini. La gente cominciò ad abbandonare le sue case e ad andare sulle colline per mettersi al sicuro. Anche gli animali cercarono di trovare un luogo al riparo dalla tempesta. Ma ancora pioveva e i livelli delle acque salirono fino a quando tutti capirono finalmente che Noè aveva detto la verità. Ma ormai era troppo tardi per pentirsi e cercare rifugio sull'arca perché Dio aveva chiuso la porta. E così, quando le acque raggiunsero le cime delle colline e delle montagne e infine le sommerse completamente, ogni creatura vivente sulla faccia della terra scomparve. Coloro nell'arca erano gli unici rimasti in vita. Per quaranta giorni e notti la pioggia continuò ma Noè e la sua famiglia erano al sicuro. Quando le acque furono abbastanza alte sollevarono l'arca da terra che cominciò a galleggiare in giro come una grande nave sulla parte superiore del diluvio. Per sei mesi e più galleggiò sopra la terra coperta dall'acqua. Poi, un giorno, arrivò a un punto morto. Dio aveva provocato un vento che soffiava sopra le acque per farle asciugare e come il maremoto diventò progressivamente più basso l'arca trovò un alloggio sulla cima di una montagna. Qui riposarono per due mesi e per tutto questo tempo l'acqua continuò a cadere ma più sotto delle montagne. Dopo aver atteso per qualche tempo Noè aprì una finestra vicino al tetto. Permise a un corvo di volare fuori dalla finestra. Ora, il corvo ha forti ali e così questo uccello volò avanti e indietro fino a quando le acque scesero. Dopo alcuni giorni Noè mandò fuori una colomba ma la colomba non riuscì a trovare un posto per costruire il suo nido così tornò presto di nuovo sull'arca. Trascorse un'altra settimana di attesa e Noè mandò la colomba ancora una volta fuori. Rimase più a lungo questa volta e quando venne la sera tornò da Noè portando una foglia di olivo verde in bocca. Con quel rametto Noè e la sua famiglia capirono che le acque stavano tornando ai fiumi e ai mari e che la terra stava diventando di nuovo verde e bella. Aspettarono un'altra settimana e poi quando Noè mandò fuori la colomba questa volò via e non tornò. Ora Noè riteneva che fosse giunto il momento in cui avrebbe potuto scoprire il tetto e affacciarsi sulla terra. Come fu contento di vedere ancora una volta la terra ferma. Più di un anno era trascorso da quando Dio li aveva chiusi dentro l'arca e Dio gli disse vieni fuori dall'arca con tua moglie e i tuoi figli e le loro mogli e ogni essere vivente che è con voi sull'arca. Così Noè aprì la grande porta e sia lui che la sua famiglia che tutti gli animali cominciarono a vivere sulla terra come avevano fatto prima del diluvio. Noè era grato a Dio perché la sua vita e quella della sua famiglia erano state salvate mentre tutti gli altri erano morti sulla terra costruì un altare appena uscito dall'arca e portò la sua offerta a Dio. Poiché Noè era stato obbediente Dio accettò la sua offerta e fu compiaciuto della sua famiglia. Dio allora promise che mai più avrebbe inviato un altro diluvio per distruggere gli esseri viventi e poiché volle ricordare all'uomo la promessa che non avrebbe mai più distrutto la terra con un diluvio mise in cielo un segno della sua promessa. quel segno era un bellissimo arcobaleno quindi ogni volta che si vede un arcobaleno sappiamo che è la promessa di Dio a tutta l'umanità. Fine